È un vero e proprio crollo. Secondo il Ministero di Giustizia dal 2006 al 2018 le domande per l'adozione internazionale di minori sono scese da quasi 7.800 a 2.600 circa e la flessione continua. L'anno scorso le pratiche concluse sono state 969, mentre nei primi 5 mesi di quest'anno sono state solo 217, anche a causa del lockdown imposto dal coronavirus. Negli ultimi mesi l'emergenza sanitaria ha impedito a circa 250-300 bambini stranieri di raggiungere le loro nuove famiglie italiane, ma sarebbero oltre 400 gli abbinamenti in corso che la Commissione per le adozioni internazionali sta cercando di portare a compimento. Si è cercato appunto di lavorare per sbloccare queste situazioni, molti bambini, diversi bambini sono già arrivati in Italia, altri probabilmente arriveranno nei prossimi giorni, nei prossimi tempi. Ieri nove bambini sono arrivati dal Burundi, nei giorni scorsi tre sono arrivati dal Burkina Faso, in giugno dieci da Haiti. Ma in molti paesi la pandemia non è ancora arrivata, mentre il lavoro dei nostri tribunali dei minori è rallentato dal coronavirus e la disponibilità delle famiglie è ai minimi storici, per gli alti costi e per la lentezza delle procedure burocratiche, ma anche per i timori legati alla delicata situazione sanitaria internazionale. Mentre all'estero le autorità centrali hanno dimostrato di saper lavorare anche in emergenza, addirittura facendo delle sentenze online, in Italia servizi pubblici e tribunali si sono bloccati. Il risultato oggi di famiglie disponibili ad adozioni in Italia non ce ne sono più.